CHE SIAMO NOI! Dunque, che cosa è questa puntata? Perché francamente non sono al correo. Questo programma dove io sono adesso è La Storia Siamo Noi. Eh, ma dovreste dirlo, ma non è il programma di Minoli? Ah, Minoli, questo è un altro personaggio straordinario. La Storia Siamo Noi. Un programma di Rai Education. Vado, eh? Via! Quando di un artista ti dice, ma lui ci è o ci fa? Lui ci è. Una cosa che mi piace tantissimo di Fiore è che lui proprio si diverte. Balla, canta, recita, si butta. È da mal di destra, non si firma l'assimo. Poi voglio dire, c'è un'età adesso. I difetti di Fiore? Eh, se ce n'ha pigro da morire. L'insicurezza. È solo ora riesce a darmi del tuo? Dopo avermi dato per lei per 12-13 anni e aver riempito la mia segreteria telefonica di qualsivoglia voce. Ogni tre secondi dimentica qualcosa in giro. Alle volte io poi gli faccio un po' da babbo, no? Dicendogli delle, non so, delle massime. Fa più rumore un albero che cade, che cento che crescono. Quindi attenzione a fare degli errori, eccetera. Lui me le ripete scherzando. Che testone, cioè duro come un portone di chiesa. Quello che mi dispiace è che è un uomo. Se fosse una donna mi piace capire di più. Hanno fatto una storia Siamo Noi dedicata a me. Sembrava un interrogatorio di Woodcock. Mi ha chiesto qualsiasi cosa. Oddio! Non vorrei che mi portasse male. Quindi spero di arrivare vivo al giorno che lo metteranno in onda. Che ho detto? Quindi mi raccomando, non mancate di vedere questo speciale dedicato a Fiorelli. Su Rai 2. La storia Siamo Noi.